Si chiama Chloe Ferry, è famosa in Gran Bretagna, per aver partecipato a Giordi Show, il programma televisivo che andava in onda su MTV. E pensate che la ragazza che può essere considerata proprio con un prodotto come una nobile donna ha già dato scandalo simulando un atto di autoerutismo con il dorso di un cane di plastica situato in cucina come ornamento. La cosa non sarebbe troppiaciuta agli altri concorrenti, in primis le donne, e così Chloe ha deciso di spogliarsi in favore di telecamere dei concorrenti, facendo davvero un gran piacere. Le attenzioni di Chloe si sono poi concentrate però su Calum Best, figlio del mitico George, che non aveva lo stesso talento calcissimo di papà, ma da cui è ereditato le grandi doti amatoie. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi, commentate e un saluto a tutti.